Musica E' mercoledì 13 luglio, buongiorno e bentrovati con la prima edizione del nostro telegiornale questa mattina in regia Gianfrancesco Iacaruso. In apertura c'è la cronaca, è stato trovato senza vita Raffaele Botticella, l'uomo di 62 anni di Torrecuso disperso da sabato nei boschi di Campitello Matese, le ricerche coordinate dalla prefettura di Campobasso. Sentiamo Tonino Danese. Il corpo senza vita di Raffaele Botticella Fioraio di 62 anni di Torrecuso nel Beneventano è stato trovato poco distante, a meno di un chilometro dal luogo dove aveva lasciato la macchina, una polo nera nei pressi della Gallinola, nei boschi di Campitello Matese tra San Polo e San Massimo sabato scorso. Si era cambiato nell'auto e tutto lasciava supporre che si fosse addentrato nei boschi per cercare funghi. L'uomo da quanto si apprende e secondo le prime ricostruzioni avrebbe compiuto un gesto estremo. Ha seguito un sentiero in salita, un posto impervio. Il corpo è stato riconosciuto dai familiari, dalla moglie che era lì con i soccorritori nelle scorse ore l'appello a curato del figlio Raffaele su Facebook. L'uomo era stato visto per l'ultima volta sabato mattina, poco dopo le 7, a un distributore di benzina vicino casa. Un epilogo drammatico dopo le ricerche senza sosta di questi giorni, ricerche con cani, droni, l'elicottero, decine di uomini impegnati a terra, volontari, vigili del fuoco, personale della protezione civile, carabinieri e tecnici del soccorso alpino e speleologico insieme al soccorso alpino della Guardia di Finanza di Roccaraso che si sono calati nei crepacci, negli anfratti e si sono addentrati nei luoghi più impervi. E sono stati proprio i cani molecolari della Guardia di Finanza che hanno indirizzato i soccorritori lungo il sentiero che porta al luogo dove è stato trovato il corpo senza vita di Raffaele Botticella. I tecnici del soccorso alpino e speleologico e quelli delle fiamme gialle hanno operato con il supporto dell'elicottero da Pescara. Il corpo è stato rimosso su disposizione della magistratura del capoluogo per l'ispezione trasportato col mezzo aereo sul pianoro dove c'era l'ambulanza del 118. Le indagini affidate alla Guardia di Finanza di Campobasso per capire cosa sia successo e le modalità. E adesso i dati Covid con l'ultimo bollettino diffuso dall'ASREM. Si registra una nuova vittima, un uomo di 89 anni di Montemitro che era ricoverato in malattie infettive. Salgono a 638 le persone decedute per Covid da inizio pandemia. I nuovi positivi sono 539 su 2075 tamponi refertati, 109 casi a Campobasso, 66 a Termoli, 39 ai Serni, 23 a Boiano, 21 a Campomarino. Numeri inferiori negli altri comuni interessati. Il tasso di positività è al 25,9%. I guariti sono 373, 3 i ricoveri in malattie infettive, un dimesso dal reparto. Sono 20 pazienti con Covid in cura al Cardarelli, dei quali uno in terapia intensiva. Gli attualmente positivi in Molise sono 4840. E adesso la politica. Nel centrodestra ci sono problemi di spaccature dentro i partiti. E ora di fare ragionamenti costruttivi a dirlo il neo capo delegazione di Forza Italia in giunta regionale, Nicola Cavaliere. La mia nomina necessaria, dice, sono i partiti l'essenza della politica. Ascoltiamo. Pochi giorni fa la nomina da parte della coordinatrice regionale di Forza Italia, Anna Elsa Tartaglione. Adesso parla Nicola Cavaliere, assessore regionale all'agricoltura e neo capo delegazione del partito di Berlusconi, in giunta. È un raccordo necessario tra giunta e partito, dice, poi aggiunge, forse dovevamo farlo prima e dentro i partiti che maturano le decisioni. Ma è un raccordo sicuramente tra l'esecutivo regionale e il partito. D'altronde simile esperienza è in seno al governo, dove tutti i partiti hanno dei capi delegazione che fanno di raccordo, da raccordo appunto tra esecutivo e partito. Non ci dobbiamo dimenticare che la politica è fatta di partiti e dell'essenza della politica. Quindi forse se sbagliata non farlo prima, questa situazione, questa diciamo nomina, sconvolgerà gli equilibri dell'aggiunta o dei rapporti? Assolutamente no. Ma sicuramente credo che ci possa essere una maggiore equità rispetto ad esempio alle nomine o ad alcuni ragionamenti di fondamentale importanza e strategia della politica sul territorio regionale. Sullo stato di salute del centrodestra Cavaliere prende atto delle fibrillazioni interne e in vista delle prossime regionali del 2023 chiede uno sforzo di composizione delle spaccature. Ci sono fibrillazioni sempre quando si va in scadenza elettorale, poi soprattutto sui territori. Noi abbiamo problemi di spaccature all'interno dei vari partiti, quindi un momento di grande dialettica interna, ma sono convinto che il centrodestra tornerà unito e invito tutti i partiti a fare dei ragionamenti costruttivi in vista di questa elezione delle regionali 2023. D'altronde non lo chiedo io, lo chiede il popolo di centrodestra. Non possiamo deludere questa richiesta forte che ci arriva. Trovata una soluzione all'annullamento del torneo di beach volley a Isernia, la Kermess sportiva si farà, ci spiega tutto. Valeria Migliore. Il torneo di beach volley a Isernia si farà, lo ha annunciato Antonio Laurelli, presidente della società sportiva dilettantistica Pallavolo Isernia, che negli scorsi giorni aveva parlato di rinuncia alla manifestazione. L'ostacolo era determinato dalla necessità di prevedere un corrispettivo alla società AGE Mobilità, che gestisce i parcheggi a pagamento presenti in piazza mercato per il mancato guadagno. 31 stalli, infatti, sarebbero stati occupati dal campo e dalle strutture necessarie allo svolgimento del torneo di beach volley, previsto originariamente per 25 giorni, per i quali Laurelli si era visto chiedere 6.200 euro più IVA, una somma che non gli avrebbe consentito di rientrare nel budget. Tuttavia, dopo le polemiche sorte a seguito dell'annuncio dell'annullamento della Kermess, una soluzione è stata trovata. Il compromesso è stato che, diciamo che in linea massima abbiamo stretto parecchio l'importo da dare, grazie anche al fatto che anche loro si sono messi un attimino a nostra disposizione e grazie a degli imprenditori locali che ci hanno supportato, per cui poi ovviamente i giorni sono anche un attimino, diciamo, un po' di meno e di conseguenza l'importo da dover dare non è stato così grosso e ci siamo dati un pizzicotto sulla pancia, come si dice, e diciamo che ne pareva la pena organizzare la cosa per Isernia, per il territorio e quindi abbiamo fatto in modo che tutto potesse essere fatto nel milione dei modi, si spera. Grande soddisfazione anche per Elisabetta Lancellotta, delegata provinciale del CONI di Isernia, che ha dato una mano per la riuscita dell'evento che si svolgerà dal 19 al 31 luglio, con due tappe, il 26 e il 27, dedicate al torneo nazionale di Beach 1. Sarà dedicata alla città di Campomarino, bandiera blu 2022, la puntata odierna di Millibar in onda alle ore 21, si parlerà di turismo e delle attività in corso nella cittadina adriatica, delle opportunità offerte da un territorio ricco sul piano agricolo, enogastronomico e paesaggistico, ospiti da Palazzo Onorante, il sindaco Pierdonato Silvestri e l'assessore al turismo Michele De Giglio. Bene, tutto per l'informazione, passiamo adesso alla Rassegna Stampa. In apertura di Rassegna Stampa diamo subito uno sguardo alla home page del giornale del Molise. In apertura il Covid, un decesso e 539 nuovi positivi su oltre 2.000 tamponi. Poi c'è la politica, Cavaliere Forza Italia dice il centrodestra componga le spaccature interne, lo chiede il nostro popolo. Poi la vicenda della persona scomparsa a Campitello Matese, trovato il corpo del 62enne che si era sbarrito tra i boschi di Campitello Matese. Vediamo adesso le altre notizie. Agnone ospita il tirocinio dell'Università Icampus per esperti di turismo. Montenero di Bisaccia, 13enne folgorato da un palo della luce. Giovedì l'autopsia. Andiamo adesso a vedere primo piano Molise. La vicenda di Montenero in apertura folgorato da un palo della luce mentre gioca primi avvisi di garanzia. Indagati il capo dell'ufficio tecnico del Comune e il responsabile della ditta che cura la manutenzione della pubblica amministrazione. Atto dovuto per il prosieguo dell'inchiesta, scrive primo piano. Domani l'autopsia sul corpo del 14enne di Montenero di Bisaccia, morto agli ospedali riuniti di Foggia. Restiamo sempre su primo piano con la cronaca. Disperso da sabato, trovato senza vita il 62enne di Torrecuso, la scoperta in un bosco. Raffaele Botticella aveva lasciato l'auto poco distante. Vediamo adesso le altre notizie. A partire dal bollettino della pandemia, un decesso 539 positivi e 373 guariti, 20 gli assistiti in ospedale. Poi si parla delle vaccinazioni, è stesa la platea per la quarta dose. Restiamo ancora in ambito sanità, bilancio ASRE, ma aumenta il disavanzo. Colpa del Covid da termoli, crisi Vibac, stiglata l'intesa, minore, lavorative e stipendi più bassi. Vediamo una notizia che riguarda l'emergenza cinghiali. Nicola Cavaliere guida la protesta contro Patuanelli, il 14 a Roma. Venafro, il palazzo dove nacque Leopoldo Pilla, rischio crollo. Il comune deve provvedere alle opere. Andiamo invece a Isernia con la giudiziaria, rapina al doc, in manette anche l'uomo che ha organizzato il colpo. È un campano che vive in città, fondamentali le testimonianze. Restiamo su primo piano e vediamo le notizie sportive. Lupi, ricorso coni, verdetto entro il 20, l'attesa dei tifosi. Rosso-blu si fa trepidante. Calcio a 5 CLN Cus più forte con la bella Marra Sarà, il preparatore atletico. Motori, annullata l'edizione 2022 del Rally del Molise, la ci dice non ci sono risorse. Lasciamo la stampa locale, adesso andiamo a dare uno sguardo ai quotidiani nazionali. c'è quasi su tutti la politica in primo piano. Iniziamo dal Corriere della Sera. Draghi respinge gli ultimatum. Apertura al Movimento 5 Stelle, convergenze su alcuni punti, dice Matt, tra i senatori di Conte è forte la tentazione di strappare. Il capo del governo, rinvio alle camere, decide solo Mattarella. Proposto ai sindacati un patto sociale su salari e pensioni. Poi la pandemia, Covid riparte la corsa ai vaccini, record di casi da gennaio. Si parla quindi della quarta dose. A centropagina una delle immagini che stanno facendo letteralmente il giro del mondo e riguardano i punti più lontani dell'universo. Miliardi di galassie, l'universo mai visto prima. Le immagini del telescopio web che ci porta a 13 miliardi di anni fa. Passiamo adesso a Repubblica, che fa un titolo concentrato sul Movimento 5 Stelle, appesi a Conte. maggioranza in bilico. Draghi propone un nuovo patto sociale contro il Carovite e apre al Movimento 5 Stelle. Non c'è un governo senza di loro, dice il Premier. Il Movimento tace e oggi decide se votare la fiducia sul DL aiuti al Senato. Cresce il rischio di spaccature. Scontro sul salario minimo, scrive sempre Repubblica, Confindustria e Sindacati si oppongono. Anche su Repubblica, una straordinaria immagine che arriva dallo spazio, galassie danzandi e culle di stelle. Ecco le prime foto a colori dell'universo. Andiamo avanti e passiamo al fatto quotidiano. La proposta che non c'è del governo, che non c'è, questo è il titolo abbastanza polemico del quotidiano di Marco Travaglio, che scrive Draghi sotto vuoto, delude CGL, Wille, Movimento 5 Stelle, né salario minimo né extra, deficit, Conte, niente fiducia. Il Premier ha mani vuote sulla crisi sociale, drammatizza l'astenzione dei 5 Stelle annunciata per domani, ma non lo fece, scrive sempre il fatto quotidiano, dopo quelle di Lega e Italia viva. Lasciamo il fatto, passiamo adesso al libero Draghi, occhio me ne vado. Questo scrive in apertura, nel quotidiano di Alessandro Sallusti. Governo appeso a un filo, il Premier offre a Conte un accordo su fisco e salari, però è già pronto a salire al colle. Avviso pure alla Lega, chi soffre nel governo lo dica, ma Salvini detta le sue condizioni. E il malumore cresce anche sul metodo. Giavazzi scrive, sempre in prima pagina, libero. Andiamo avanti, proseguiamo con la nostra rassegna stampa e passiamo al quotidiano comunista, il manifesto che come di consueto fa un bel titolo. Divergenze parallele. Questo il titolo di apertura. Draghi vede i sindacati e mette sul tavolo salario minimo e taglio del cuneo. Le richieste di Conte, convergenze con l'agenda di governo, dice il Premier, ma con gli ultimatum non si va avanti. Via da Palazzo Chigi e niente bis, senza piena fiducia dei grillini. Ha un passo da una crisi sfuggita di mano al leader. E vedremo come andrà a finire domani. Continuiamo la rassegna con la stampa. Draghi no al governo degli ultimatum. Questo è il titolo di apertura che fa il quotidiano di Torino. Il Premier avverte, indisponibile per altre maggioranze. L'invio alle camere, chiedete a Mattarella. Patto con CGL, Cisleguil per il taglio del cuneo fiscale e salari minimi. Questo scrive in apertura sempre la stampa. Andiamo avanti, passiamo al tempo. Piano rifiuti entro luglio, scrive il quotidiano di Roma, parlando della scommessa della Capitale. Intervista al sindaco Gualtieri che anticipa la strategia per risolvere l'emergenza. Termovalorizzatore nel 2025, mini discarica di servizio, tolleranza zero su Ama, l'azienda dei rifiuti. L'obiettivo è ridurre i costi e impiegare i risparmi per tagliare la Tari. Poi a centropagina si parla di vaccini. Vaccini Covid sprecati, scrive il tempo, scadono 3 milioni di dosi. Poi la politica. Draghi mette all'angolo Conte. Domani la fiducia sul DL aiuti. Super Mario dice non si governa con gli ultimatum. Proseguiamo con il quotidiano dei Vescovi. L'avvenire patto anticrisi, scrive in apertura il quotidiano della CEI. Draghi offre un'intesa alle parti sociali, avverte, non si lavora con gli ultimatum, ma apre alle richieste del Movimento 5 Stelle. Ci sono punti in comune. Il mio governo però non va avanti senza di loro, discussi con i sindacati salario minimo, valorizzando i contratti incentivi e taglio al cuneo fiscale. Poi sull'avvenire questa mattina c'è un'intervista a Romano Prodi che dice difficile andare avanti con i partiti così. Poi parlando di fatti internazionali, Prodi dice pace in Ucraina, ma soltanto con USA e Cina. Poi anche sull'avvenire a centropagina una meravigliosa immagine che arriva dall'universo e con il telescopio tornammo a rivedere le stelle e galassie danzanti, scrive l'avvenire. Le prime cinque fotografie scattate da web mostrano pure due nebulose e lo spettro di un pianeta. Passiamo adesso dall'avvenire al mattino di Napoli. Draghi no agli ultimatum, questo è il titolo di apertura. Il premier chiarisce punti di convergenza con i Cinque Stelle e non ci sarà un governo bis. L'irritazione di Salvini confronto a Palazzo Chigi con i sindacati. Sostegno a redditi e famiglie. Poi in taglio alto, sempre sul mattino, una notizia di cronaca davvero inquietante. Napoli sfregiata a 12 anni per gelosia, coltellata tra gole e guancia dall'ex fidanzato sedicenne. Lei non voleva più vederlo. Davvero una vicenda terribile. Lasciavo il mattino, andiamo al quotidiano della destra italiana. Nel secolo d'Italia, governo in coma profondo, scrive il secolo. Draghi brancola nel buio. Poi le altre notizie. In primo piano, sondaggio testa a testa tra Fratelli d'Italia e PD, Lega e Movimento 5 Stelle ai minimi. Poi si parla di legge elettorale. Meloni dice un pretesto per evitare le urne. Restiamo ancora sulle vicende politiche. Draghi concede il salario minimo al Movimento 5 Stelle, ma niente, bis. Ed era sempre una notizia del secolo d'Italia. La verità. La tentazione di Draghi. Mollo tutto. Questo scrive in apertura il quotidiano di Maurizio Belpietro, che parla di orlo di una crisi. Si allontana l'ipotesi del rimpasto. Il premier rifiuta il bis se escono i 5 Stelle ed è pronto ad approfittare dell'occasione per sbattere la porta. Tutto sta a vedere fino a dove si spingerà Conte. Ieri blandito, scrive sempre la verità, solo a parole. Le accuse da sinistra ai consiglieri di Palazzo Chigi per la scissione di Di Maio. Il governo vuole usare superincassiva, scrive sempre la verità, per tenere buoni grillini e sindacati. Insorge la Lega. Poi, a centropagina, la vicenda pandemia. Dopo le balle che ci hanno rifilato sulle tre dosi, vi fareste fare la quarta. Da questi qui si parla di tutta una serie di figure che hanno raccomandato nel tempo di effettuare le vaccinazioni. Lasciamo la verità e andiamo con il sole 24 ore all'informazione economica. ITS Academy, la riforma è legge, scrive il quotidiano di Confindustria. In apertura si parla di formazione, istituti tecnologici vicini a imprese e territori, 19 provvedimenti attuativi. Brugnoli di Confindustria, dice, rilancio decisivo per l'innovazione. Poi l'estate calda degli aeroporti, con una fotonotizia che arriva da Itrow, Londra. Avverte le compagnie, basta biglietti. Poi Superdollaro cala il prezzo del petrolio. In conclusione di rassegna, le notizie sportive con la Gazzetta dello Sport, che questa mattina continua a dare informazioni sulla campagna acquisti e si concentra sull'Inter. Inter, gioia mia, questo è il titolo di apertura. Si fa riferimento chiaramente a Di Bala, alla caccia a Di Bala. Nei razzurri pronti alla svolta, scrive la Gazzetta. Così Marotta studia l'affondo, Napoli in pista e poi c'è anche l'ipotesi. Murigno, poi ancora, ancora Inter, Lulà tutto pronto come prima. Si parla di Lukaku e Lautaro Martinez, amichevole a Lugano. 4-1, la vecchia intesa funziona. Sempre. Bene con le notizie sportive, si chiude la nostra rassegna stampa. L'appuntamento è alle ore 14 con il nostro telegiornale. A voi tutti, buona giornata.